ciao ragazzi siamo qui a bordo piscina Veraclub sono super contenta perché voglio proprio farvi un tutorial di come utilizzare le cupping, allora le cupping sono delle ventose che ci permettono di andare a rimodellare e sifonare via il liquido in accesso per aiutarci con gli anestetismi delle cellulite ma abbiamo anche la fascia massager, la fascia massager sono per i fasci, i fasci che sono legati al tessuto connettivo che ci può proprio andare a creare quei duroni, quei duroni che vediamo durante diciamo gli anestetismi delle cellulite la cellulite è una sorta di microcosma che si forma esclusivamente nella zona sottocutanea e comincia a creare i bozzetti ma i bozzetti di che cosa si tratta? Si tratta di un tessuto connettivo irrigidito che quando comincia a creare delle aderenze sulla zona sottostante crea quella che poi diventa una sorta di incapsulazione di grasso di liquidi che creano bozzetti che si gonfino si intasano il microcircolo diventa sclerotica e dopodiché che cosa o sclerotico e che cosa succede? Comincia l'infiammazione dove c'è infiammazione ahimè non defluisce i metaboliti che sono i detriti metabolici delle nostre cellule che comincia a creare proprio infiammazione diventa dolente diventa fredda diventa noiosa e abbiamo problemi allora io ho un kit un kit della fascia massager e due ventose una ventosa più grande e una ventosa più piccola tutti e tre sono fatti di silicone alimentare che così potete tranquillamente lavarli con un po di sapone neutro e con l'acqua calda e dico indistruttibile e molto più probabile che li perderai prima che smetterai di utilizzare questo kit l'altra cosa che necessita è una crema una crema che può essere attivo o non attivo allora partiamo con una crema in questo caso effetto rassodante perché uso effetto rassodante perché è una pelle matura perché io sono in forma però anche creme che sono snellenti o creme che sono criogenici che aiutano a migliorare anche l'attività delle nostre vene creando una sensazione di freschezza le sensazioni di freschezza ci aiuta anche a fare un vaso costruzione che ci aiuta a drenare e la mia creoslim è anche anticellulite dedicato proprio a linire e defluire e drenare la zona allora la prima passaggio qual è il primo passaggio è proprio di lavorare a ad ammorbidire i fasci altre cose che aiutano ad ammorbidire dei fasci ovviamente andiamo a tentativi è il trampolino perché il trampolino fa una sorta di massaggio no che ti massaggia il tessuto connettivo ogni volta che atterri o le pedane vibrante altra cosa meravigliosa per gli anestetismi delle cellulite sono i bigood che con infrarossi a raggio lontano drenano e poi con la cosmesi che è in microincapsulato nel filato c'è una lipolitico molto potente che si chiama caffeina la caffeina non solo il nostro caffè verde che ci aiuta a bruciare i grassi però un drenante e anche un lipolitico che stimola rilasciare i grassi nella zona sottocutaneo allora andiamo con il nostro fasci diciamo fascia blaster che va a proprio ammorbidire quelle connessioni fai caso che non mi posso permettere ancora la pedale vibrante cominciamo manualmente la nostra movimento deve essere energico ma non troppo e se notate bene io ho la silicone che semi rigido che è morbido che si spostano questi pirulini questo è molto importante perché ci sono fascia blaster che sono molto duri fatto di proprio plastica dura e crea dei lividi perché se io se sono troppo aggressiva posso rompere i capillari invece con questa che è un po morbido semi morbido e con una bella crema emolliente lo aggiungo ogni volta che necessita proprio di far sì che si scivola questa spazzola sopra la zona e lo farò per circa cinque minuti per zona continuo a massaggiare e aiuto proprio questo primo passaggio che riscaldamento e ammorbidimento delle fasci perché una volta che i nostri fasci diventano più distesi più morbidi un po più omogenea la coscia già comincerà a avere un aspetto più liscia più liscia la gamba ma il secondo problema qual è dell'inestetismo e delle cellulite e ritenzione idrica allora per la ritenzione idrica abbiamo le nostre coppe aspetta prima di proseguire però voglio farti vedere anche un'altra cosa la cosa bella del nostra spazzola è anche ci aiuta proprio a fare una sorta di scrub ci aiuta a portare via le cellule diciamo magari un po morta la pelle migliora aiuta a scendere più in profondità le principi attivi di una crema densa che è una crema come questa crema corpo effetto rassodante che vuol dire mi aiuta la pelle di avere un aspetto più giovanile perché nostra pelle purtroppo viene un po aggredito non solo dagli alimenti dal sole dall'acqua dal cloro e dal sale quando andiamo al mare ma anche del fatto che quando noi facciamo troppo dolce usiamo un bagno schiuma che magari è troppo aggressiva perché può proprio logorare la pelle seccare la pelle rendere la pelle un po meno elastica così molto importante trattare la pelle e quando mi faccio la mia capping system vado non solo a massaggiare ma anche miglior è che massaggio il tessuto connettivo aiuta anche la qualità della pelle adesso le ventose le ventose sono fatte di silicone e sono fatte di due diverse misure ovviamente la rosa per la zona un po più ampie e la blu e per la zona un po più piccolina ok e che cosa devo fare io applico una pressione lo lascio sulla gamba ben incremata e passo da basso verso alto specialmente se ho problemi di delle vene del ritorno venosa o problemi dei capillari perché vogliamo sempre assecondare il flusso dal ginocchio verso l'anca così siamo sicuri che non facciamo niente contro la forza delle vene contro il ritorno venoso o contro il ritorno linfatico diverse persone dicono no le coppe assolutamente non si possono utilizzare con la fragilità capillare non è vero noi possiamo sempre fare una sorta di preparazione precedente di farmavem farmavem per le vene farmavem aiuta le pareti venose ad avere molto molto più diciamo sostegno così già aiuta le pareti venose diventare po più performanti e dell'altra parte è la sozione stessa ovvio esattamente come non andrei a fare 24 km il primo giorno che voglio andare prepararmi per una maratona le stesse cose con le coppe usiamo il parsimonio usiamo la testa e lo facciamo sempre con cautela ok applico meno pressione traccio sempre da basso verso l'anca o basso verso alto e questo aiuta proprio il ritorno venoso addirittura ti aiuta a drenare perché quando io dreno i liquidi sulla coscia alleggerisco di tensione idrica aiuterò automaticamente il ritorno microcircolatore un microcircolatorio quello venoso e lenfatico ma andiamo avanti perché ricordiamo che con le coppe possiamo anche trattare la pancia con la pancia sempre dobbiamo prima partire con una crema emolliente che ci permette di aderire o scivolare le coppe io per la pancia vi invito di utilizzare la coppa piccola ok e noi possiamo tranquillamente portare verso verso esterno le nostre coppe provando di rimodellare e portare via liquidi sulla pancia perché molte donne hanno liquidi sulla pancia perché ritensione idrica si concentra la ed è un'altra parte dove noi possiamo tranquillamente trattare migliorando non solo i liquidi per drenare ma migliorare la qualità della pelle sempre per quanto mi riguarda di abbinare una crema o rassodante più per fare questo trattamento vi consiglio sempre di utilizzare una crema attivo rassodanti dimagranti soltanto sulla pancia sconsiglio la crema criogenica perché è fredda allora per coloro che potrebbero avere problemi di freddo sulla pancia criogenesi sulla pancia è sconsigliata sicuramente a post pranzo perché non dobbiamo mai diciamo dare troppo freschezza sulla pancia dopo che abbiamo mangiato altre zone che noi possiamo sempre trattare con le coppe sono la famosa vele ok le vele e ricordate le vele hanno bisogno di tanto e tanto aiuto per la pelle tanto aiuto ok per aiutarci avere una pelle più tonica e di nuovo useremo la coppa piccola la poca la coppa piccola e lo faccio tracciare da basso verso l'ascella basso verso l'ascella e noi possiamo sempre trattare tutto il corpo e quando lo uso lo sto proprio spostando mi stavo volando via mi aiuta proprio a spostare i liquidi nel corpo rassodare la pelle tonificare la pelle spostare i liquidi strussare anche a diciamo i grassi se uso una crema lipolitico che vuol dire una crema a base di cafeina o qualche molecola che aiuta a stimolare il rilascio dei grassi altre cose che sono meravigliose delle nostre coppe e se vogliamo eliminare o ridurre tensioni nelle spalle perché posso sempre incremarmi la zona cervicale perché comunque a volte abbiamo sai quella tensione muscolo tensivo col mal di testa muscolo tensivo mette la coppa in posa e lo lascio proprio sulla zona proprio più critica la zona che ha proprio la contrattura la lascia in posa e potresti notare dopo due minuti che lascia un segno più scuro è il segno più positivo e non vi spaventate se vendete vedete proprio un bel succhiotto violaceo perché vuol dire che c'è stato una stasi nella zona una stasi di linfa una stasi di liquidi e di solito più è colorito diciamo il segno più era stato necessario di trattare la zona se volete scoprire altre cose sulle capping basta che vai online e scrive capping vedrai tantissimi atleti tantissimi campioni che usano questa tecnica milanaria proprio cinese per aiutare il corpo a vivere meglio perché il nostro corpo ama il flusso ama il microcircolo ama che tutto scorre alla perfezione nel nostro corpo liquidi linfa microcircolo ed energia e con la coppa tutto diventa più facile finiamo questa piccola diciamo consiglio della gil ricordando che la crema è necessario passiamo prima tre quattro minuti la nostra fascia blaster proprio per ammorbidire la zona poi passiamo le coppe da basso verso ventre verso torace sia per le braccia che le gambe e cominciamo a non utilizzare una suzione troppo aggressiva per la prima volta per far sì che possiamo a veramente invitare i liquidi a spostarsi nel corpo senza mai essere troppo aggressivi ricordate che qui su energy siamo sempre alla vostra disposizione per farvi capire per farvi scoprire per farvi anche gioire con il proprio corpo perché il corpo è una meravigliosa macchina che se noi la teniamo in forma e li diamo anche in qualche aiuto con le coppe con il trampolino con le pedane vibrante passiamo da sopravvivenza a vitalità pura ci sentiamo sempre più energici sempre più sorridenti e sempre più orgogliosi di noi stessi baci dalla gil vi aspetto sempre insieme per altri consigli e mi raccomando passate una giornata fantastica